Buona domenica 5 settembre. Gesù nel suo peregrinare passa attraverso Tiro, Sidone e va nella Mare della Galilea, nella regione della Decapoli. È un camminare di Gesù, un progredire nella realtà umana. È arrivato, incontra una folla che gli porta una persona sordomuta. A questo punto Gesù fa dei gesti molto concreti, si mette in disparte, non vuole ostentare la sua azione salvifica, lo fa privatamente, fa con gesti precisi concreti, tocca la persona, mette le dita sulle sue orecchie, bagna la lingua con la sua saliva e poi rivolge gli occhi al cielo e sospira, effetta apriti e la persona incomincia a udire, gli scioglie la lingua. Invita ovviamente a tenere riservata la cosa, ma la gente ne parla, non sa trattenere il miracolo che ha potuto osservare e affermano che costui fa belle cose, appunto, fa sentire i sordi, fa parlare i muti. Questo è un punto molto importante perché ci narra di come l'azione concreta di Gesù, che deriva il suo agire dalla sua appartenenza al Padre, quel suo rivolgere gli occhi al cielo, non in Lui ma attraverso Lui si esprime l'infinita misericordia e amore di Dio per l'uomo che è chiamato ad ascoltare, a far sì che quelle orecchie si aprano all'ascolto, accolgano la verità per poter liberamente parlare, sciogliere la lingua, sciogliere il nodo di un silenzio muto che molto spesso è imposto. È un gesto di grande libertà e di liberazione, una manifestazione straordinaria di uno dei punti centrali dell'essenza del messaggio evangelico, che è messaggio di ascolto e quindi di obbedienza, perché obbedire significa ascoltare e mettersi nelle condizioni per poter ascoltare. E se facciamo fatica lasciamoci andare. All'infinita misericordia di Dio lasciamo che sia Gesù attraverso il suo messaggio a liberare le nostre orecchie, perché il messaggio possa entrare, non poniamo resistenza, affidiamoci. E contemporaneamente la nostra lingua può sciogliersi, può dire liberamente la parola. Noi amiamo molto la libertà di parola, ma molto spesso la costringiamo dentro a un mutismo elettivo per non correre rischi. Non dobbiamo naturalmente fare della parola un luogo di arroganza, di prevaricazione, mantenere quell'invito alla riservatezza che Gesù ci dona. E ci invita essere aperti all'ascolto, liberi di parlare, sempre con estrema sobrietà e riservatezza, perché è attraverso questo che si manifesterà la verità e la forza liberante del Vangelo, del messaggio che Gesù ci ha portato per la liberazione dell'uomo. Buona giornata a tutti.